Il mio nome è Angelo Anichini, produco il vino Chianti Classico Massotondo. Siamo partiti da molto lontano, la famiglia Anichini è proprietaria della fattoria che produce il Chianti Classico Massotondo dal 1414. Beh, avere una bottiglia di Massotondo in mano per me è la sensazione di avere un figlio, una creatura che è nata dall'amore e la passione che la mia famiglia da oltre 600 anni mette in questa attività. Un buon vino lo si fa in vigna, questo è un modo di dire che mi ha tramandato mio padre, che è stato tramandato anche a mio padre ed è per me la sacrosanta verità il fatto che è in vigna che si fa un buon vino. Il motivo per cui continuiamo a fare il vino è perché siamo follemente innamorati di un territorio della nostra azienda che produce il Chianti Classico Massotondo e vogliamo assolutamente dare continuità a questa splendida avventura nel futuro.